Buonasera a tutti, intanto a nome della San Giorgio, ringrazio per la disponibilità, ringrazio ma rispettare a tutti che in questo momento non è presente, che esce dalla biblioteca che è sempre molto attenta e partecipe a organizzazioni di eventi di questo tipo. Ah ecco, la Maria Stella, ciao, per l'appunto ho fatto il mio nome, non so se vuoi, come siamo, no, la nostra abitudine di solito prevede non prende il pezzo. Va bene, allora saluto intanto e saluto i relatori che oggi sono stati invitati alla presentazione di questo libro, la cui redazione è stata curata da Paolo Cochi, che è autore, regista e scrittore, io lo definirei un giornalista di inchiesta che si occupa, ecco, che sta esibendo l'ultima versione di questa pubblicazione. Dicevo appunto Paolo Cochi si occupa di questi, ora ci lascio un termine a vent'anni, che possiamo chiamare i delitti risolti, sono campanilista, e che mi risolve la nostra storia di cronaca iniziale, in italiano, e mi sta mostrando ora la prima edizione di questo libro che si chiama Mostro di Firenze, al di là di ogni ragionevole libro. Lui ne ha curato personalmente la relazione insieme a Francesco Cappelletti, che dice saluto il professor Giovanni Marello, alla mia sinistra, che è il collegario dell'ospedale di Reggio di Firenze, ha prestato la sua consulenza in sede degli otto pubblici omicini del mostro, e anche ha affettuato, non sapevo la sua consulenza su Pacciano. E c'è, ah, il professor Paternini c'è? È arrivato. Ah, è arrivato. No, no, mi dicono che è arrivato, allora lo invito a sedersi. Si vuole così, almeno facciamo un passaggio veloce. Il professor Rolando Paternini, che si sta attuando ad ora, lo salutiamo, il direttore di Psiciatria Forenze e Criminologia di Firenze. Saluto l'avvocato Antonio Marzello, che l'incise anche il mio padre, perché sarete accorti della somiglianza fisica, in me purtroppo mi dicono che sono uguale, che fu legale di Mario Panni al processo, quello che è noto al più come processo ai compagni di Marelli. A questo proposito vi prendo, rivolgere un saluto anche al collega Gian Gualberto Pedi, che faceva parte del collega di pensivo che ci ha venuto a trovare, e la inviterei anche se vi viene, insomma, di intervenire, di fare un breve intervento, ci farebbe veramente piacere. Bene, grazie. Bene, a questo punto aspettiamo l'intervento dell'avvocato Vierge Reani, che si è costituito da parte civile di una delle famiglie delle vittime francesi, dall'arrivare. Sì, c'era un po' di problemi in autostrada, ci vedete. Bene. Certo, siamo cominciati all'attesa, produco brevemente questa pubblicazione, io non credo che ci sia necessità di ripercorrere quella che è stata la vicenda, sull'attesa questa pubblicazione, la conosciamo tutti, è un, credo proprio, il caso, qualche delitto è risolto per eccellenza, appunto, che tutta la comunità nazionale oltre conosce bene, e vorrei soltanto soffermare su questo, ho letto con attenzione la pubblicazione, che ha un approccio scientifico, quindi voglio dire, diciamo dati oggettivi sui quali c'è poco, che non devono essere condimentati. Credo questo, credo che un dato di fatto sia questo, che al di là del contrasto che ci può essere tra la verità processuale e la verità sostanziale, è un fatto che la vicenda del posto di Firenze non è mai stata attiviata, perché a 50 anni dallo vicino, tra Barbara Locci e di Antonio Lobianco, nel 1968, esiste tuttora un fascicolo aperto verso la Procura di Firenze, i titolari come è noto, perché poi dalle ultime pubblicazioni in mezzo sono oltre al Dottor Turco anche il nostro Procuratore della Repubblica, il Dottor Canessa, che pure, ovviamente, ha fatto un'indicazione a questo evento. e la ragione, diciamo, no, ovviamente, formato in cui questo fascicolo è aperto, la sappiamo, magari la diciamo ai non alventi lavori, è quella per cui, da un punto di vista squisitamente processuale, l'accertamento si è fermato a 4 degli 8 attributi alla stessa mano, con la condanna definitiva di Vanni e Lotti, mezzalente a qualche anno fa. Quindi non si è mai chiuso. Non si è mai chiuso, non si è mai chiuso, l'abbiamo visto anche, come si dice, no, in gengo, Pacciani è morto da innocente. È morto da innocente, in attesa di giudizio, perché appunto eravamo nella fase transitoria tra il rinvio della passazione e la celebrazione del nuovo processo in appello, quando è morto. Quindi, dicevo, l'indagine è ancora aperta, l'ultima vista di cui abbiamo avuto contenza dai giornali, per l'appunto dovrebbe prendere spunto da un suggerimento dell'avvocato Vieri Adriani, che poi ci racconterà, penso approfondirà questo aspetto, e coinvolge due figure ormai non per il pandenni, quello del vigilante, un ex legionario e un medico mugellese di nome Gancamo. Questo medico mugellese, secondo questa rivista, dovrebbe essere uno dei mandanti di questi omicidi, insieme a quel Francesco Nancci, che era un medico che si trovava, un cadavere si trovava nel lago tra se meno qualche anno fa. Perché, ecco, vorrei dire questo, poi Paola, soprattutto, non voglio sfruttare tempo, camminare in una panoramica molto superficiale e veloce. Mi piace questo libro, il libro diceva, un approccio scientifico, e segna uno spantiato nell'ambito delle indagini, tra il prima e il dopo. C'è una data, il 1989, in cui, per la prima volta, si profila la figura del mostro di Firenze nelle fiche del Piero Pacciani, e questo è il primo. E poi c'è il dopo, perché accanto alla figura del Piero Pacciani si delinea una nuova vista investigativa, evidentemente, che poi prende corpo con il processo ai cosiddetti compagni di merende, che è quella che abbandona l'idea del serial killer come figura, come persona fisica, unica, che non è male, era stata sostituta fino a quel momento, anche dalla stessa procura, anche da Perugini, ricordo che c'era stato tutto uno studio su questa figura che comunque è quella che normalmente, voglio dire, si riproduce in questo tipo, insomma, è la prima volta in affunto nella storia del mondo, credo che si possa, no, che si parla di un gruppo di mostre, tra virgolette, perché questo poi si delinea nella seconda fase, no, di questo, segnata da questo spartiano, diciamo, l'ipotesi del compagno di merende come gruppo che, anziché, appunto, andare a consumare merende, anche loro di studio di consumare qualcosa altro. Ora, io, personalmente, poi veramente concludo questa mia breve intituzione, vi racconto soltanto che nel 97, quando è a inizio il processo, ai compagni di, a inizio, sì, credo che abbiano, per cui può essere più preciso, io nel 96 inizio il processo, nel 97 io mi laureo e inizio a fare praticare lo studio di Milastò e quindi comincio la mia esperienza, il mio primo approccio nelle aule di giustizia e devo dire che sono una fortuna di potermi accostare come 25 anni insomma a una realtà processuale di sale livello. E non mi ricorderò mai, ecco, questa ricordomina, no, che si avvisava, cioè, io lo dico dall'epoca, ovviamente, totalmente esperta, in un certo una navigata processuale penalista, ma, ecco, avvertico questa dicotomia tra la tragedia e i fatti di cui si discuteva otto coppie massacrate in quel mondo e il senso grottesco che questi personaggi manifestavano, no, e che questa cosa me l'ha ricordata molto bene la riproduzione di alcuni passaggi degli atti dell'istruttura divertimentale di Paolo Cocchi che per l'appunto richiama certe dichiarazioni di questo lotti, ce lo dirà la cosa Antonio Mazzeo la sua fu una ringa molto polta sul concetto di chiamata di Correo questo lotti è quello che viene definito testimoni chiari con lui che sulla base diciamo delle cui dichiarazioni si è costruita l'indagine e l'inchiesta sui compagni di Berende volevo solo dirvi che il lotti era un migofrenico al 100% e anche nel modo che aveva di esporre di esporre fatti di questa gravità appunto diciamo così usiamo un orfemismo diciamo che usavo un modo cortesco di riferirli in maniera molto superficiale senza nessuna attinenza con il contesto e poi ricordo il mio basito stupore quando mi avvicinavo al Banni che era un collegio difensivo ci sono anche delle immagini di uno strage di un processo in cui il Banni mi inventiva in fronti del dottor Canessa e si conclude con non ritorneremo perché era era rimasto legato all'era fascista era un fascista aspetti mi va bene non ci può più dire e quindi c'è la faccia mia che mi guarda così invasita e mi ricordo che in quei giorni c'è stato un suo complame di dare a una confezione di Ferrero Ruscio non riuscivo proprio a associare la sua figura di uomo estremamente mife che sapevo che aveva fatto il costino per tutta la vita che aveva raccundito la moglie inferma mentalmente fino alla sua morte con quella di mostro al di là vero con buona pace di tutte le considerazioni che si sono fatte sull'incapacità proprio anche fisica di poter compiere quel tipo di delitti con quella particolare modalità che sappiamo di asportazione insomma dei genitali e quant'altro ma mi fevo perché parleranno le persone che sono molto più autorevoli di me questo è quindi a questo punto io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Paolo grazie 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 a te Tietiana per rivedere volevo dire che sia dunque è uscito prima il reportage che poi vedremo in tv che era praticamente relativo all'ultimo diritto quello di Scopini dell'85 ed era un reportage tv di carattere scientifico il dottor Monello che torna e quindi era importato principalmente sul giorno di quei omicidio sulla notte di quei omicidio che già all'epoca era incerta gli stessi inquidenti sia coloro che intervenirono sia poi coloro che fecero gli esami successivamente nutrivo una certa incertezza quindi questo è stato diciamo l'input mi ha ispirato a fare questo documentario poi dopo successivamente ho realizzato un libro che è un libro che parla a po' di tutto la vicenda del mostroio di Firenze che seguo da forse più di vent'anni a livello giornalistico e ne diamo appunto un quadro nel libro con l'aiuto anche da la dottoressa Pulsone completo che si basa sugli atti e quindi si basa sugli atti d'indagine e su quelli processuali quindi è un libro documentale e documentato e racconta senza prendere alcuna posizione da un punto di vista delle ipotesi voi sapete che sono state formulate tantissime ipotesi sul mostro di Firenze al di là di quelle che si è affermate a livello processuale parzialmente perché noi abbiamo quattro 12 omicidi con dei colpevoli e tre senza un colpevoli e quindi non abbiamo formulato delle nostre ipotesi ci siamo limitati al documentare e documentarci al documentare ci siamo però soffermati su un aspetto molto interessante che era quello da cui sono derivate queste cordanne per Mario Vanni chiamate in cuore da Giancarlo Lotti perché facciamo in prima del giudizio definitivo e da lì sempre attraverso gli atti processuali e gli atti di Darmine ne viene fuori un quadro decisamente diverso da quello che poi è stato l'esito parziale dei processi io ho scelto di dare appunto il titolo a questo libro al di là di ogni ragionevole dubbio perché ritengo che sia estremamente significativo questo termine questa norma giuridica che noi abbiamo e che poi si è rafforzata come la serie come principio giuridico del nostro ordinamento e appunto volevo che l'advocato Manzello spiegasse prima di andare a affrontare i vari aspetti di questa vicenda e di vedere magari il documentario cos'è il principio del prodotto in maniera tenevole dubbio e perché su questo caso in particolare si deve evidenziare quindi sottoviso in realtà la norma di legge è l'attuale formulazione dell'articolo 533 del concetto dell'articolo di legge che può riguardare ciascuno di noi la conquista giuridica il giudice pronuncia sentenza di condanna se imputato risulta colpevole del reato contestato al di là di ogni ragione di dubbio in realtà studiosi come franco portello commentarono all'inizio il parco ovviamente di non addetti al lavoro che era un americanismo in sostanza perché il nostro ordinamento ha sempre conosciuto il principio di origine di diritto romano insomma in dubbio prorevo in dubbio si assolto però certamente questa introduzione normativa ha rafforzato questo principio perché molto spesso gli addetti al lavoro sono trovati in processi non a dover fare conti col pubblico ministero come in questo caso che deve provare la contabilità ma tante volte è l'onere di provare l'innocenza invece di imputato e toccato agli avvocati invece il processo si fonda su questo cioè è il pubblico ministero che deve provare la contabilità e oltre a ogni ragione di dubbio cito soltanto una sentenza recentissima della Suprema Corte che ha espresso questa massima di diritto che spiega ancora meglio che significa ragionevole e dubbio dice così del 2011 la regola di là di ogni ragionevole e dubbio introdotta dalla legge 46 del 2006 che ha modificato eccetera eccetera impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni ovvero l'autocontradditorietà ob esterni e qui stiamo attenti a questo perché riguarda proprio la vicenda poi del nostro quindi deve scongiurare la sussistenza di dubbi esterni alla stessa ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica allora perché è importante partire da qualche riferimento normativo perché per quanto riguarda che posso passare a fatto vero ma è che si mi riferisco per quanto riguarda l'ultimo dei delitti quello su cui poi si parlerà tanto stasera per altri versi il delitto degli scoperti il chiamato in corretà il chiamato in corretà significa io c'ero io ho partecipato io ho avuto un ruolo ma oltre che accusare me accuso anche il pepepe che è Giancarlo Lotti ha sempre dichiarato di essersi legato la sera di domenica almeno questa è la data ufficiale perché il delitto poi si dirà che in realtà non avvenne di domenica ma un po' prima però ufficialmente le legate processuali la sera di domenica 8 settembre attenzione alle date del 1985 lui si sarebbe legato sul luogo degli scoperti a bordo della sua vettura Fiat 124 Fiat 128 rossa Fiat 128 rossa sera dell'8 settembre durante il processo primo grado la difesa del barri fece le sue indagni difensibili che scopri che risultava in realtà trascritto a pubblico registro dei veicoli un acquisto da parte dell'orti di una Fiat 124 blu tre volumi nulla a che vedere con le 128 rossa 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 a fezione alle date il 3 luglio del 1985 quindi due mesi prima avevo comprato una macchina gli viene contestato questo fatto e lui si difende dicendo però ho cominciato a usarla a partire dal 20 settembre quindi circa due settimane dopo l'omicidio fino al 20 settembre ho usato la 128 rossa cubè quando poi ho trasferito l'assicurazione del solo 124 che avevo comprato dal 20 settembre quindi da dopo l'omicidio ho iniziato a circolare con questa macchina prima versione dai per bagno ho già spiegato quando ero presa io il 20 settembre dell'85 questo bello toscano perché l'ho assicurata dal 20 settembre dell'85 prima di quel giorno non avevo la macchina quella lì cioè la macchina nuova non potevo mica girare tanto con la 128 senza assicurazione non credo quindi questa è la sua prima versione io ho girato con la 128 rossa cubè fino al 20 settembre dell'85 delitto dell'8 settembre quindi sono andato sul luogo del delitto con la mia 128 rossa è importante questo perché l'accusa trovava indicavano le riscontre della presenza del lotti sul luogo dei biscopedi a bordo appunto della macchina rossa un paio di testimoni che avevano visto ovviamente non avevano rifiutato avevano visto quella sera di domenica sostenevano testi le pavere di chiaracqua dicono che avveriscono questa sera in quella zona circolare girare girarsi un'auto rossa cubè cioè senza bocca quindi c'erano due versioni che si leggevano la docente la prima versione dice io ero con la 128 rossa e poi ho iniziato a circolare con la 124 brutta e colunini quando ho girato dice di assicurazione cioè a partire dal 107 dell'85 finisce il giudizio si conclude il giudizio di assisti di primo grado con la condanna dell'impotante e nel remore si dice cioè tra il primo grado e il secondo grado la difesa dei panni continua a fare le sue etaglie difensive che viene in possesso del fascicolo assicurativo dell'ottio e non sto a citare i particolari come ci siamo arrivati eccetera sarebbe un lungazzo comunque recuperiamo questo fascicolo che ufficialmente l'accusa aveva dichiarato di essere stato passato a maggio da molti anni e da questo fascicolo risulta una cosa abbastanza grave risulta che l'assicurazione della Fiat Rossa 128 l'aveva girata il lotti sulla macchina nuova non il 20 settembre dell'85 cioè due settimane dopo il delitto ma dal 25 maggio dell'85 tre mesi prima ancora c'erano due modelli GID cioè dichiarazione di incidente stradale del luglio dell'85 da cui risultava che il 12 parlava tranquillamente con la nuova macchina già due mesi prima del delitto cioè con la 124 con il blu del volume al punto che aveva provocato due incidenti di differenza quindi si imposta l'appello su questi dati su questi dati che si aggiungono al fatto che siamo in presenza di un chiamato in corredità un chiamato in corredità definito da tutta la mia risurdenza da tutta la morte eccetera una fonte spuria gravata di sospetto perché non è un test un terzo più strano è uno che comunque ha partecipato può avere le sue ragioni per accusare gli altri a volte anche irriveribili certamente una fonte spuria non solo una fonte spuria ma in considerazione di questo fatto le sue dichiarazioni devono essere passate al sedaccio sotto il profilo della spontaneità della contestualità della verosimiglianza della genuinità in genere ovviamente nel giudizio di secondo grado questi fatti vengono contestati lo stesso procuratore generale cioè i rappresentanti dell'accusa che in frattempo ovviamente non era più il pubblico ministero del giudizio di primo grado si convince facendo la sua espruttoria con i suoi mezzi ben più potenti di quelli della difesa che ci sono le condizioni per chiedere l'assoluzione per anni e la contanna del lotti per calumnia e così conclude la sua repositoria vengono addirittura sentiti in un soffermento di istruttori dipartimentali sempre a giudizio di secondo grado i soggetti coinvolti negli incidenti del luglio dell'85 diciamo in incidenti stradali procurati dal lotti con la nuova macchina che nulla aveva a che vedere con la 128 rossa in sostanza noi sostenevamo che lui non c'era mai stato perché nel momento in cui circolava con un'altra macchina ci procurava anche degli incidenti va bene l'aveva assicurata prima la 128 era una macchina che era priva di assicurazione quindi in base a una vorrei dire considerazione banale senso comune non avrebbe mai potuto adoperarla anche se ce la fevano magari ferma su un piazzale non solo aveva dichiarato il lotti sempre nel corso del giudizio di primo grado che si era determinato a comprare la nuova macchina perché quella di prima il famoso 128 grosso e non andava più sempre espressioni sue molto colorate era bella e finita dico la verità era bella e finita poi dice l'ho fermata la sera fermata da sé pensi che non c'è problema io l'ho comprata prima di prendere il 124 la fermai poi non andava più e via di questo passo era quasi finita non andava più a dire la verità era tutta scontata questa era più piena di lui questo lo dice prima che la difesa scopra che aveva assicurato la nuova macchina prima del 27 non ci stava l'era tutta scontata andava via l'intensia allora dissi sì che non ha c'era un ferma niente questo è il quadro quindi noi abbiamo in sostanza alla data del proprio cedio di Pescochetti il lotti che può darsi che si è ancora nel possesso della vecchia macchina del 228 Fubè però si trova con una macchina che in questo anno le stesse parole ne era bella fine era tutta scontata dal punto che due mesi prima aveva acquistato una nuova macchina aveva trasferito l'assicurazione su una nuova macchina fin dal maggio del 1985 quindi tre mesi prima del delitto e poi aveva questa prima macchina nuova con la quale circolava ed ha già procurato due incidenti di fronte a questa mole di contestazioni e tira fuori il coniglio dal cilindro dei lotti cioè cambia ulteriormente le persone in assistenza del primo dice oh vi lo adorate in trame pronuncia questa frase la vedaria che chiude l'algumento ma lo chiude che dovrebbe essere una misura come una riapertura nel senso che chi si occupa di processi di diritto dovrebbe trarre le conclusioni circa la come dire spontaneità di un'idea di questa parte è uno che cambia versione sull'impulso delle contestazioni documentali che gli vengono fatte quindi già per definizione non dovrebbe essere considerato credibile è uno che manda avanti una ipotesi viaggiamo nonostante tutto con la 128 alla data del pubblicio non assicurata in condizioni che non mandava più e invece quella buona quella che non avrebbe potuto creare nessun problema non lasciarla a casa quindi completa sociale assoluta in verosimiglianza nonostante tutto questo e sappiamo come è andata cioè con qualche sconto di pena con qualche ora non ricordo più ho l'occhio anche si va bene lui c'è il programma di protezione cittadina anche questo cioè lui come dichiarati come chiamati corretà non lo schiavano perché in base a una legge del 2002 e per certi tipi di reali gravi di solito di madre eccetera ma ci rientavano anche anche di questo tipo e lui era stato ammesso a un programma di protezione per cui in sostanza non si è fatto mai un giorno di carriera insomma c'è un caso di rinnovare ecco allora risultato abbiamo chiamati il corretà che per la dura e per definizione è una ponte scuria gravata di sospetto abbiamo chiamati il corretà il quale su un dato centrale decisivo cioè se c'era o non c'era sul luogo del delitto l'8 settembre a cambiare naturalmente versione sull'urgenza e sulla spinta di contestazioni che gli venivano fatte in base alla ricerca e documentali tanto sarebbe bastato quanto meno per fare il social appunto quel ragione di cui si parlava tanto è vero che il corretore generale non a caso si convinse che il lotto che era un cambiatore che chiese la soluzione conclusione quando poi la giudicudenza recente ma è non ripeto la ricerca quella antica perché abbiamo sempre avuto il principio dell'indubbio problema insomma dice che se esiste una ipotesi alternativa ipotesi alternativa era che l'8 l'8 di settembre non si è andato sul luogo del delitto perché non aveva la disponibilità materiale o comunque la possibilità di guidare la macchina rossa la 188 se c'è un ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica per questo aggettivo della cassa il giudice deve assolvere ma non ora avrebbe dovuto assolvere anche allora perché era un dato decisivo se Lotti non era sul luogo degli scopetti si sarebbe verificato in questo caso un effetto domino questo avrebbe verificato sui effetti anche su tutte le altre migliorazioni relativi agli altri omicidi su cui ovviamente qui e non deve parlare perché sarebbe un discorso lunghissimo e non concluce grazie 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 è affrontato così è doveroso l'aspetto giuridico perché il libro ha un titolo io entrerei nella proprio nella storia dei delitti del mostro quindi noi abbiamo qui un testimone il professor Morello che è vissuto il primo terzo nel periodo e vorrei fare alcune domande lei è professore dal 74 fu la sua prima esperienza nel delitto di io sono partito con l'esperienza dal delitto di Corpo San Lorenzo la squadra c'è il coro di Stefano Pettini un delitto che è stato per la prima volta a Firenze un delitto così efferato non si erano mai visti casi del genere, poi successivamente nel tempo purtroppo abbiamo potuto vedere un viraggio della criminalità in Argentina ma fino a quell'epoca c'erano stati sideriti ma non così efferati e durante quella autosia si vengono messe alla luce tutta una serie di elementi che poi si sviluppano e trovano la loro compiutezza dei delitti successivi cioè l'accannetto particolare a fronte della vita femminile la scelta dei soggetti il tipo di approccio all'autovettura perché normalmente si tratta di un'autovettura a parte appunto il delitto ultimo di questo che si tratta della terra di gru comunque un approccio che poteva benissimo essere effettuato da un unico soggetto non necessariamente da tool e un delitto che in qualche modo lasciava prevedere lo sviluppo futuro la cosa particolare è che a quell'epoca venne fatto un riscontro di carattere balistico che unì questo primo delitto a un delitto precedentemente avvenuto mi riferisco a Antonio Bianco e a Barbara Occi è un delitto del 1968 non era ancora laureato in medicina per cui non mi sono preoccupato ma è un delitto che è stato perpetrato con lo stesso tipo di arca quindi venne fatto nel 74 questo collegamento o nel 81? venne fatto successivamente nel 81 nel 74 non venne fatto questo venne soltanto identificato vennero stati diviati alcuni possumi che non tutti i possumi sono riprovati non si andavano persi e devo dire che durante tutti questi delitti una parte dei possumi non è stata mai riprovata e il primo delitto poi è venuto 4 in un giorno prevestito in una morte di premio anche questi elementi di ridurre delle modelli successivi cioè tutte le volte che avviene il delitto in questi ragazzi avviene in un momento di premio insomma a parlare perché è un problema perché chiaramente è un problema in questa situazione che permette a un soggetto di avvicinarsi alla maturatura senza essere visto è un momento in cui la luce abbagliata fa effetto selvaggina anche fronte alla macchina la macchina illumina con i fai la selvaggina la selvaggina si immobilizza e la macchina è un bellissimo destino e allora in questo caso la luce violenta nella piuttura produce quella l'elemento di spupore diciamo di immobilità che permette principalmente di sparare e ammazzare le persone e le persone una domanda che molti che si interessano al caso si sono posti è la ma queste famose eccessioni erano di carattere chirurgico o di un minuto è una diciamo che questo è stata una dizione di un mio collega il mio collega è lo stesso che si è occupato di tutti i delitti e che praticamente ha evidenziato in questo taglio unico netto una mano abituata a tagliare e allora questo può essere bellissimo un chirurgo ma una mano abituata a tagliare non è necessariamente un chirurgo e ogni persona che ha la capacità di lavorare il coltello in maniera che le e allora basti pensare ai voltadini cosa fanno i voltadini prendono un coltello che con semplici vari riescono a studiare bisogna essere chirurghi per poter studiare il coltello e in questo caso l'escissione era in un certo senso abbastanza facilitata dalla regione topografica che è stata scissima perché trattandosi di un tessuto molle con uno strato inquidico sottostante nel momento in cui io ne faccio presa o in cui lo vicino con una certa facilità quindi lei ha una certa uniformità nelle eccessioni c'è una certa uniformità di un etodo è sicuramente una eccessione fatta da un soggetto di estremale il taglio che è stato fatto è stato un taglio che in qualche modo è avvenuto su una persona già receduta e pertanto con una maggiore facilità delle eccessioni stesse diverso è il caso della Stefania Pettini che non ha avuto questa mutilazione ma ha avuto un accorgimento fatto un'aggressore che ha attivito molte volte il corpo così sono circa 98 49 in fisso di Buddha e che all'epoca delimitava la regione venitare della ragazza cercando la coscia lo salendo con la donna e ritornando alla coscia c'era già un'innuce un'idea di quello che voleva succedere a lei si ricorda come mai non viene fatto assolutamente questo collegamento tra quando avvenne il verito del 74 e quello del 68 perché erano la situazione era simile cioè no quella del 68 non era simile a quello del 74 perché erano sì due persone uccise dall'apicacolo ma c'era il bambino non ci sono state scissioni sono state soltanto colpi di pistola e all'epoca venne fuori che questa pistola era stata gettata nel fiume e conseguentemente era andata persa conseguentemente il caso si era chiuso in un certo senso all'epoca poi quando è stato fuori il discorso che che era il bambino che era il bambino che era il bambino con il percussore che poteva esattamente il bambino nel suo scuso cioè c'era un'identità del percussore sui bambino quindi l'identità di pistola a questo punto a questo punto è veramente che abbiamo cominciato c'è stato cominciato i bambini a fare delle ipotesi più precise sul fatto che potesse essere un'unica arma o passata da una mano a un'altra ovvero si era sempre lo stesso ora noi abbiamo sicuramente un modo in crescendo che ricorda la problematica dei serial killer e noi sappiamo che il serial killer incomincia in determinato modo ma nell'evoluzione della sua il suo che è un pericolo in un'altra parte in questa maniera anche se il carico non è proprio perché non si tratta sicuramente di un pericolo però aumenta la sua modifica in qualche modo il suo agire e allora prima delimito infinitario poi gli scimico poi mi trasferisco anche alla mammella ora ovviamente in tutta questa questa evoluzione ci sono dei momenti che non c'entrano per esempio il diritto dei ragazzi tedeschi il diritto dei ragazzi tedeschi che vengono uccisi sì che non subiscono altre violenze vengono uccisi con la stessa arma ma non subiscono violenze perché? perché erano due uomini nel senso che questi due ragazzi all'interno di un uomino fortale essendo uno di questi piuttosto macro esile con capelli ucchi era stato probabilmente identificato come soggetto femminile e allora ecco il delitto ma ecco anche l'arrestarsi di fronte a questa situazione perché non aveva più il problema prima di fare un'altra domanda sulla morte di Pacciana che era eseguita la torsia ma posso dire il professor Padernici che ha questi concetti che il professor è stato un'altra domanda di un'altra domanda di un'altra domanda di un'altra domanda e poi diciamo alla fine cerca sempre di farsi scoprire questo un po' l'escursus classico del consiglio di Sirio Archile anche perché ha bisogno in qualche modo della notorietà perché un Sirio Archile non può uccidere in maniera non ma basta il suo piacere narcisista si scatena anche sul fatto di essere in qualche modo scoperto infatti quasi tutti i Sirio Archile della storia non solo italiana ma anche mondiale sono stati quasi tutti scoperti scuso qualcuno quello più classico oggetto spettatore non è mai stato scoperto sono state avanzate numerose ipotesi come nel caso che stiamo esaminando anche sul caso del nostro in Firenze ci sono numerosissime ipotesi e come tutte le ipotesi possono essere falsificate o accettate però mi colpiva io all'epoca ero un giorno di psichiatra mi chiesto al professore con il quale collaboravo un profilo psichiatrico dell'ipotente di Sera e noi con lui e io come collaboratore suo concludemmo sul fatto che non c'era assolutamente problemi psichiatrici vede i propri l'eventuale assietà chieda se fosse stato uno solo perché era un po' che agiva in modo programmato ha detto bene che il professor Marello l'unica volta che sbaglia è con un uccidio per i due tedeschi ma proprio perché viene tratto l'inganno dalla corporatura del giovane come capo di noi per il resto come agisce questo soggetto uccide subito l'uomo perché non è interessato all'uomo è interessato solo alla donna ma l'uomo lo deve far subito fuori per poter agire distrutpato sulla donna infatti non si accadisce mai contro non c'è escessione non ci sono più di c'è solo il colpo di pistola sul donno dopodiché si può dedicare il calma alla donna e lì c'è un escalation perché all'inizio non fa niente sul corpo della donna poi comincia sempre di più a fare l'escessione a fare i colpi sempre nella zona genitale da qui avrò una ipotesi abbastanza suggestiva che quest'uomo potesse in qualche modo essere un soggetto che non tollerava l'esposizione dei genitali femminili in poco pubblico e che forse poteva avere qui quando da psichiatra dei legami con una madre che soffriva di patologie tumorali a livello dell'utero o della mammella proprio perché sono i due organi attenti in qualche modo fino a arrivare poi all'escessore di un prezzo di pute della mamma che ha eseguato anche alla sede della morte questo è interessante che significato di apprezzare queste spedizioni secondo me il significato è che era l'unica PM l'unica donna del pubblico che indagava sui delitti del busto e credo che fu nell'ultimo tentativo di questo soggetto di farsi scoprire anche perché lì si scoprì molto nel senso che inviò questa busta con un pezzo di pute proprio a questa PM e la mia impressione è che fosse proprio sul punto di volersi fare scoprire una delle ipotesi che ha rammentato prima non mi ricordo se era detto l'avvocato prima quando ha citato Narducci è una delle famose ipotesi del gruppo non più del comicidio seriale unico ma del gruppo è piuttosto suggestivo che cosa il fatto che l'8 settembre avrebbe l'ultimo delitto del mostro e l'11 settembre è pregiudito come era trovato il cadavere Narducci in Narducci in Narducci in Narducci in Narducci in Narducci in Narducci questo cosa significa che interrompe allora uno ci pensa e dice ma chissà se forse però sono tutte ipotesi queste allora tornando invece alla questione del perché ha mandato questo questo lento di pute io penso che fosse proprio legato alla necessità di sottolineare che il problema suo era legato proprio a questi organi genitali che che venivano in qualche modo esposti in un luogo che non era era l'aperto non era un luogo pubblico perché era alpuro eccetera però per esempio pare che aspettasse sempre che i due giovani fossero già spogliati non ha mai spogliato lui il cadavere della donna in realtà in realtà non lo so perché in un delitto i ragazzi erano ancora arrestati mi riferisco al delitto del 6 giugno 81 oggi la denuncio la denuncio aveva una donna di pelle di camoscia che era stata tirata su e lui aveva poi fatto l'escessione appoggiando la donna sul beletto di un c'è una specie di dosso che c'è la linea a lui non si doveva fare questa è un'interpretazione del tutto però noi ci poniamo il problema del perché questo soggetto o questi soggetti comprivano questi riusci e delitti lì è venuta fuori anche poi l'ipotesi del gruppo che aveva bisogno di questi feticci in qualche modo per poter fare altre cose ma i feticci e l'escessione avvengono solo dal quarto delitto in poi fino al quarto non ci sono accadamenti particolari ma posso fare una domanda cioè nella letteratura criminale e criminologica mondiale è mai capitato di individuare un caso dove vi era un mandante di questa tipologia di diritti a sfondo maniaco sessuale no mandante ma essere al fine gli italiani non sono tanti sono 7 8 per fortuna sono stati catturati tutti alcuni sono ancora in carcere altri sono usciti e quasi tutti a parte il paio uccidevano per esempio per ragioni tra virgolette pseudo sessuali le prostitute il più famoso è tornato pirancia che uccideva le prostitute sui treni tra il passo di amonte e la licuria ma c'è il gruppo Ludwig che erano Abel e l'altro però non mi è mai capitato che ci fosse un mandante e un esecutore di solito la persona che eseguiva era quello che lo faceva prima direttamente per sé però le persone che venivano uccise in qualche modo dovevano scappare sempre con la sessualità come in questo caso questo è un caso in cui l'elemento sessuale è evidente è evidente perché qualche animenza è sempre verso la regione pubblica o la regione della armella quindi è evidente che è un fatto con grosse componenti sessuali poi la valenza di queste componenti sessuali purtroppo non la possiamo solo ipotizzare ma è evidente altri serial killer in Italia facevano un po' Stefanin lo stesso era uno che uccideva le prostitute l'unica serial killer italiana donna era la mitica Renata Cianciulli la saponificatrice di Torreggio che era un po' matta era preoccupatissima per la morte del re che erano tutti in guerra era rimasto uno solo che stava facendo la guerra e si era convinta che per salvare quest'unico figlio rimasto doveva uccidere le sue amiche allora li invitava a casa e li arriva pasticcini ammelenati e pare non è certo che ci facesse il sapone di un'occhio di questa amica per questo è chiamata la saponificatrice forse è vero forse no ma si perde la volta dei tempi non c'è lo sfondo sessuale no di serie archivio invece recenti c'è sempre lo sfondo sessuale io appunto ho fatto una ricerca a livello mondiale il corso mondante esecutore non è mai risultato sarebbe il primo è un unico caso intanto vorrei salutare l'avvocato Adriani che ci ha raggiunto un po' di ritardo se vuoi accomodarti per intervenire professor Marello chiudendo il discorso dell'ultimo diritto per chiudere su scoperti noi abbiamo abbiamo fatto una nuova intervista e io ho interpellato anche altri specialisti come Entrona come Campobasso Bolino insomma anche Tomogi lei ricorderà che vi fu poi un problema sul giorno e questo poi lo vedremo nel documentario tra l'altro sono ispirato un po' a due metà un libro di via Adriani che fu c'era prima del mio reportaggio un bel libro che appunto parlava delle incontrivenze del caso di scoperti e vorrei chiedere il frammento mandato a magistrato donna signore e fu analizzato quindi apparteneva alla donna ma cosa secondo lei poteva significare come fu interpretato l'epoca questo ma lei fu interpretato soltanto un segnale nei confronti della signora della monica che era una delle addetti alle indagini insieme agli altri che poi rispettero un posto della pistola del posto di prevedere degli altri leggera che fu anche analizzato dal punto di vista delle caratteristiche che furono indenziati i gruppi sanguigni sulla saliturata non ma relativamente all'elitto della francese la cosa principale è essenzialmente la problematica mandata in cui è avvenuto questo delitto data che all'epoca vide una contrapposizione netta tra due componenti del pur investigativo dal punto di vista me parlo di defazio da una parte che era il criminologo che poneva la data della morte il 7 e del professor Paolo il mediterogiale che poneva la data l'8 indubbiamente questa discremanza di data è molto riderata perché voi capite che chi ha live per il 7 o chi ha live per il 8 e sono completamente diversi allora anche il collegio medico florentino ma nell'ambito del collegio medico florentino ma anche se non facevo direttamente parte del collegio in questo caso specifico espressi anche io i miei dubbi basandomi soprattutto sulle risultanze dell'entomologia forense l'entomologia forense è una scienza particolare che è stata molto sviluppata nell'istazio di chieda venica cioè la primissima entomologia forense deriva addirittura dai nostri colleghi d'oltranno i franceschi però in America hanno avuto grossissimo ricurso di studi di intorno e forense tanto che loro hanno addirittura le cosiddette body farm che sono delle zone in cui vengono fatti in un certo senso potre fare e poi successivamente andare contro la sirentazione a cadaveri per studiare gli effetti della fauna sui cataclutti allora noi sappiamo che quando la carne va male la prima cosa che accade è che le mosche vanno a fare le uova facendo le uova le uova rasconde le larve le larve si sviluppano e rinvengono le mosche come si può determinare l'ora della morte dai cosiddetti bacovini che giochiamo con la carne abbastanza semplice ogni mosca ha un periodo specifico di demolizione delle uova perciò se io vado a esaminare le larve che sono state trovate sul corpo della francese devo antiporre la data del delitto a sabato e cioè praticamente ritorniamo di nuovo a quell'abitudine abbiamo visto anche dei delitti precedenti che venivano sempre sottoscritto tant'è che il sottoscritto che all'epoca aveva il turno di reveribilità e i due dì se li vedeva sempre arrivare e sono visti arrivare tutti in sala proprio perché ero il lunedì per cui praticamente non riuscivo a li drenare le voce allora anche in questo caso il delitto fu scoperto più tardi e venne affidato alla professione paurri e alla professione De Fazio e lì ci fu questa disegnanza ma altri autorevoli colleghi mi riferisco prevalentemente alla scuola parese per lì Francesco che trova che ha grosse esperienze hanno anticipato la tabla della morte al 7 di settembre quindi poi ci fu la scoperta dei corpi e il martedì mi si ricordo bene arrivò la lettera Silvia della Monica con lembo di seno ecco noi vorremmo anche me chiedere a avvocato Adriani abbiamo fatto una ricerca su questa circostanza nella quale Silvia della Monica chiedeva protezione a vigna perché si sentiva il pericolo sì io volevo volevo dire qualcosa sì quindi altamente nuovo o per meglio dire se non nuovo diciamo identificato dalle risultate processuali no ho sempre sentito parlare di questa lettera un po' come una leggenda invece ho tutto di ritrovare le poche degli atti a cui vanno riferimento di questi eventi è una nota di un connesso giudiziale il 10 settembre del 1985 indirizzata dal procuratore della Repubblica di Firenze insieme dice testualmente la informazione stamattina alle 9.45 sono state incaricate la dotazione della Monica di Abito una lettera a lei indirizzata la lettera si presentava con una busta chiusa per la carta con nominativo del destinatario per l'indirizzo trascritto per tramite un collage di lettere pedagliato da un giornale una volta aperta la lettera ho trovato un foglio di carta ripiegata e incollata all'interno era stata collocata della sostanza non medio identificabile di consistenza gelatinosa e alla vista in trasparenza di color rosato a questo punto ritrovando di punto un reperto di interesse penale ho sospeso le operazioni e mi sono rivolto alla signora vostra per le definizioni di sua competenza allo stesso giorno il procuratore repubblica venere grazi scrive al gabinetto di polizia scientifica dice prego effettuare gli accertamenti e competenze sulla lettera sostanza contenuta nel cuoio custodita all'interno dalla lettera stessa e incontri dalla professa della modifica il giorno successivo che è il 11 settembre Ligna e Canessa indirizzano una missiva a una squadra mobile all'attenzione del dottor santo Federico con la quale lo pregano di poter far intervenire la criminalità la busta d'alletto di un timo che era a sede 9 settembre 95 con l'indirizzo dottoressa di Silvia della Monica procura della Repubblica con una sola b 50 cento che è sedata mediante carri di stampa unitamente attuale di carta bianca e frammento di cielo palinesso contenuto affinché al primo svolgo l'unico accertamento di polizia scientifica o particolare riguardo alla individuazione dei prodotti alla individuazione geologica della busta dall'et del foglio del cenofo all'individuazione del giornale per quale sono tratte le lettere e i numeri dati per comporre l'indirizzo firmato in linea plerite che ha messa questo il 12 settembre per 1985 due giorni dopo il 13 di settembre facendo seguito alla precedente gli stessi magistrati scrivono la direzione centrale di polizia peninale ma a Roma non più a Firenze in cui precisano facendo seguito di carri precedentemente affidato tra la squadra mobile delle storie di Firenze nell'articolo apposto indirizzato a Torre e Sala Monica che è arrivata al 9 settembre si deve capire di provvedere anche davanti del trapullo e della linguetta adesiva della busta al fine di determinare tramite la salina tutto lo sanguino della giura e tramissima poi sarà esalinata attentamente questa busta e poi verrà depositata l'atterizio sul 24 dicembre del 1285 all'eser della quale non è generata più davanti tanto meno tacce e di tipo organico e alla luce di questo episodio un po' di minuto questa lettera e una corrispondenza privata tra dottoressa la Monica e il procuratore della Repubblica che deve essere all'epoca il dottor di un'opera canta canta e credo si possa leggere perché è agliato o è tagliato perché abbia fatto relazioni particolari e quindi la dottoressa la Monica si deve oggi al procuratore conferenza e le scrive testualmente facendo sempre un ruolo di giocatore in mezzo lei informa per iscritto il giorno 10 settembre 1985 in mattinata a mia pervenuta in ufficio una lettera da una mantenente assoluto di origine di origine umana che come ho preso dai colleghi interessati attualmente alle indagini della vita che mi uscì di poter essere un mostro può essere collegato con altissima probabilità a questi fatti delutuosi rappresento dice la dottoressa della Monica che mi sono occupato con le indagini ai primi del gennaio 1984 quindi più o meno più all'arresto di nelle bucciarini nel 25 26 gennaio 1984 con il procuratore capo Enzo Fileno Caratta e poi richiese al procuratore repubblico al professor Enzo Fileno Caratta di essere rilevata e sostituita da collega in quanto sia per motivi di lavoro impegnata nel produttore Otto Tommaso Spadaro Valenzio Vesto di tanta ieri di Piedomina sia per motivi familiari che è morto di mia madre mi si impegniva dedicarmi con sufficiente possibilità di tempo anche all'assistenza giudice strutture sempre stata formalizzata l'inchiesta no? perché prima c'era istruzione sommale del pubblico ministero poi poteva diventare istruzione formale a quel punto giudice strutture e servizio del pubblico ministero poi c'è un sistema cambiato il sistema di un pesito la stampa ne ho mangrato ha sempre dato grosso e esalto alla mia partecipazione alle indagini ricordo in particolare un articolo da parte di una nazione di Firenze scritto da Mario Spezzi lasciatevi questo che faceva anche riferimento a persone della mia famiglia inoltre lo stesso Spezzi nel suo libro su un mostro di Firenze che Spezzi ha pubblicato il primo libro 183 parlando degli indirenti a più volte fatto riferimento alla mia persona e a certe impostazioni istruttorie da me da il noto peraltro da tempo io non mi occupo più del caso ma sono passati infatti un anno e otto mesi sicché il noto della lettera proprio a me non posso che interpretarlo altro che come sfida di indiretti come minaccia a me di volta devo segnalarmi che il nostro ufficio soprattutto di pomeriggio è accessibile senza adeguati controlli a chi che sia e che io trascorro e procura la maggior parte della giornata appartenendomi per ragioni di lavoro fino a notte in entrata che comunque dopo la usura del portone principale con conseguenza rientra ora tarda nell'abitazione ritengo in futuro sottolineare che mi sembra probabile che l'autore della norma soprattutto in assenza di pubblicazione del suo gesto possa compiere un ulteriore basso e mettersi in contatto con me sia teleuronicamente che di persona con un settore con un primato per gli assaggi di un'altra cosa ti posso interroppare così? Dottor Paterniti secondo lei prego in campo è possibile che questo soggetto o questi soggetti abbiamo avvicinato il procuratore si dice la monica in qualche modo per sì sì è possibile perché come si dice sempre queste persone poi si trovano quando torna alla scena del delitto quando fanno un delitto hanno bisogno di stare dalla folla o comunque hanno bisogno di contattare anche inquirenti in polizia specialmente il presidente magistrato buono sì infatti ho detto prima secondo me non era un caso che l'abbiamo andata a stiglia della monica nonostante da più di un anno e mezzo non si è spazio più di due c'era proprio un miracolo perché era l'unica donna che in qualche modo si era occupata e ha ragione io non conoscevo questa questa lettera che ha detto l'avvocato Adriani però credo che la dottoressa la monica abbia capito bene il gesto cioè una sfida verso gli inquirenti veicolata attraverso di legge questo modo è una sorta di ma lei appunto chiede di un'unica che si è grata di pubblicità cioè bene altrimenti di avere un contatto diretto telefomico o disabito io penso che mi posa se la mia anche la dottoressa deve essere proprio una consulenza a un criminologo o a una sigana chiedendo questa cosa perché è vero che se non pubblicizzi il gesto di un serial killer quello mi rende ancora progressivo probabilmente lei non lo aveva capito non so magari ha capito di suo oppure ha chiesto qualcuno però di fatto è stato un buon segno questo di pubblicizzare questa lettera con il contenuto perché queste persone raggiungono un'eccitazione particolare nel momento in cui compiono il gesto e poi probabilmente necessitano anche di mantenere continuando con il procedimento di città cioè portare via un pezzo di corpo una parte anatomica allo scopo di proseguire questa eccitazione anche a domicilio diciamo così altrimenti dovrebbero farne uno al giorno o una settimana in realtà c'è mi pare se non ricordo male tra l'81 e l'85 massimo vedendo i domicili io non so cosa è successo nell'85 per cui tutto si è interrotto perché c'è l'ipotesi lì ma ce ne potrebbero essere molte altre però sicuramente è un caso che l'abbiamo andato a registrare l'onore e poi la parte della non è una cosa particolare volevo concludere con questa combinazione dalla dottoressa della mone al dottor Tantagalli è datato a Firenze il 17 settembre 1985 lo stesso giorno il procuratore della Repubblica il dottor Francesco Fiori il procuratore del dottor Paolo Canessa emettono un decreto di autorizzazione all'intercettazione telefonica dell'utenza privata della dottoressa della Monica e poi addirittura predispongono con nota scritta del stesso giorno 17 settembre 1985 un servizio di sorveglianza presso l'abitazione della dottoressa della Monica e anche di vigilanza durante l'orario di un ufficio firmato dal procuratore capo Raffaello Cantacalli non succede niente di particolare ma siccome ci sono nel frattempo il incendio di frattempo di proiettili ai tre magistrati accompagnati dalla scritta poveri di testi che le passano a testa il 10 di ottobre c'è il chiedito di prorogo di autorizzazione di intercettazione telefonica di l'utenza privata della monica e nonostante questo un soggetto si mette riesce a mettersi in contatto con la potenza della monica sulla sua potenza riservata questa situazione l'abbiamo già commentata e quindi non ci spingiamo oltre e comunque è un sedicente Gianfranco che dice di aver avuto indirizzo di telefono del personale della monica ad un amico che si chiama Mario e il telefono dice per quale motivo ti sta cercando per andare a fare l'amore signora per andare a fare l'amore mi scusi ma chi vi l'ha detto chi vi l'ha dato un amico un amico che capita dal signore a questo numero un amico che capita dal signore dove e gli fa il numero di casa sua tenete presente che il numero di casa è di un magistrato insomma non era non era proprio facilissimo averlo ecco poi vengono risposte delle delle ricerche da stavoletà per provare che è stata telefonata ma nonostante questo attraendo un spiegamento di forze risponde una personata non è a Firenze ma che è da fuori non sono in grado di intracciare ma sono un po' tazzicchio e poi volevo per concludere il discorso sulla dottoressa drammone che è tracciato una direttiva di dalle del 20 agosto 1982 in cui lei scrive al domani preparato per la tribuna di Firenze testualmente il discorso del tribunale di Firenze il dottor Vincenzo Trincomi se ne ha una cosa costruisce l'importanza di una lettera anonima qui si è parlato di un autoritario di giornale qui si parla di una lettera anonima non si sa cercare di capire però se la dottoressa è un'anonima che è stata una direzione diretta oppure solo di portata non è questo un argomento per smentire la tesi quella sostenuta da un mandante da un nello raccoletto della singola che parlava dell'unitario di giornale però parla effettivamente di indirizzata questa lettera è pensata alla scrivente però non è una donna magistrato una procura per il pubblico che è trasmessa per indagini anche per le storie parla la quale evidenziava un venuto i suicidi commessi dal nostro posto 5 non 4 richiamando l'attenzione sui rischioli che avanti avanti per passare in un'altra qualità della provincia il pubblico richiene rispezzato alla fine delle inferiori indagini concerne l'identificazione dell'autore della donna di entrare in possesso dello scritto potendo continuano con il presso sia attribuiti la persona a conoscenza che l'identità che l'assassino ha passato sulle citazioni per parte si prega di questo procedo a pronta trasmissione in realtà passeranno diversi mesi a quanto do benificare io prima che questo pezzo di carta che entri nella disponibilità della procura del pubblico del presso del pubblico studisce le strutture io compunto questo intervento dedicato alla figura del ruolo che ho avuto questa vicenda di professa della modica la quale credo ancora oggi potrebbe alla luce di cui sono stati eventi successivi forse darci qualche indicazione qualche indicazione vi ringrazio Paolo Coppi che è un amico un servizio studioso che ha fatto un ottimo lavoro che ha completato e ha ampliato una strada importante quella dell'attrazione del pubblico omicidio per noi era un discorso di scontrini era un discorso di riconnorti Paolo l'ha completato e l'ha ampliato apparendosi anche una orientazione fotografica che fortunatamente lui ha trovato perché il difensore non aveva insomma non c'era l'attrazione lavorato mi la sto quando tentò la prima volta per questa stata in un anno di un anno lui invece ha potuto contare su una disponibilità molto più di un'altra che sono le fotografie scantate il 10 di settembre e con quelle possiamo avere la certezza che sono ma anche da quasi che queste persone non sono morte l'attrazione dell'attrazione dell'attrazione di un'attrazione attrezzerci con tutte le impiegazioni che si può portare sui guardi non soffermi grazie ancora a Paolo per questo invito e per il lavoro scientifico che ascolta insieme a chi lo ha aiutato il presunto il professor Marello e tutti gli altri che non ci sono intervenuti grazie grazie io volevo chiedere una cosa sul discorso della lettera il fatto che questa lettera venne inviata dalla bocchetta postale di San Piero io mi sono sempre chiesto come appassionato del caso se questo invio fosse terminato da quel posto in base al fatto che la dottoressa della Monica avesse a disposizione un'abitazione in quel luogo nella stagione estiva come l'ha lei detto in diverse interviste o se fosse un fatto ricollegabile al per esempio alla questione che il mostro potesse eventualmente avere un'abitazione o potesse avere una dimora comunque a un giallo perché mi sembra un po' strano che nel libro che viene compiuto a 30 km sotto Firenze cioè si percorre tutto un tratto di strada con un lembo del seno della Muglio e di conseguenza insomma con anche il rischio di farsi scoprire per portarlo proprio in quella punta delle lettere sì no guarda io sono testimone diretto di questo perché la prima volta a cui disse questa cosa la Silvia della Monica fu con me il mio documentario iniziale e lei appunto fu lei a farmi presente in questa cosa ossia che la punta delle lettere di San Giardino di San Giardino e di San Giardino che viene spettita la lettera appunto con il brandello di seno era vicinissima alla sua abitazione estiva che in quell'anno solo in quell'anno la magistrata preva quindi anche questo può essere un elemento di più che curiosità di ipotizzare che un mostro o dei mostri partano da San Casciano dove era quello di ultimo delitto per fare 60 km e andare proprio lì insomma questo poi ci vuole un po' di fantasia insomma che si ha venuto in questa indagine insomma non voglio per carità e voglio chiedere una cosa che si è marello Pacciano me l'ho chiesto anche da si ricorda da morto di Pacciano si sono stratificate una serie di leggende medio-contane su tre leggi avvelenamenti percosse lei ha fatto l'autopsia come ha mai fatto Pacciano allora non ho fatto soltanto l'autopsia ho fatto anche il sopravuoco perché sono regato a caldo in Pacciani dove il cadavere dello stesso sul movimento dell'abitazione parzialmente diludato nel senso che aveva fatto noi abbassati era un periodo mi ricordo di incoenza che aveva creato gastroenterologici importanti e infatti in caldo di Pacciano c'erano bracce abbondanti di quelle che erano ragazzoni dello stesso a prescindere da questo fatto ho preso Pacciano importante di istituto e gli andavano eseguito l'autopsia non aveva segni di violenza SGOD aveva un quadro patologico del tutto compatibile con una morte naturale una situazione anasarcatica cioè una inquilizione di acqua nei tessuti con versamento pleb versamento addominale indice di che cosa di un arresto di una situazione di insufficienza cardiaca cronica il cuore di Pacciani posso dare la cifra era il cosiddetto corpo vino pensava 800 grandi più il saldo è il cuore colpato assolutamente 400 45 era un cuore impresso non soltanto era un cuore in senso ma aveva praticamente tutti quelli che erano estima di sé la morte naturale poiché non si poteva lasciare indietro la possibilità di eventuale allenamento opera di terzi sono state fatte anche le indagini antiosicologiche le indagini antiosicologiche non hanno trovato farmaci nel sangue allora se il farmaco non va in sangue non può agire però hanno trovato un anti-asmatico a livello gastrico cosa significa questo? perché se un soggetto inala un anti-asmatico una parte di questo oltre ad andare a finire nel colpone va a finire anche lo stop per cui si può dire che aveva in alto un anti-asmatico ma l'anti-asmatico non è mortale anche se noi prendiamo un anti-asmatico fatto da un beta agonista ossia da una sostanza che va a rilasciare la sostanza non ha sicuramente effetto nocivo su il cuore perché il cuore è determinato cioè ha un altro recettore beta il cuore è un beta più uno il polmone è un beta più due l'agonista è nei confronti del beta più due nei confronti del beta più uno invece sono gli antagonisti beta che servono per ridurre la pressione arteriosa e per impedire diciamo tutte le problematiche di insufficienza per cui anche questo ritrovamento di questa parma che è stato molto accreditato non ha avuto un valore reale in quello che è la morte del paciente di chimo si insegna di trascinamento quindi abbiamo diciamo che è una morte è una morte naturale certo uno dice c'era la morte aperta si sa che cosa è successo però le campagne spesso le porti sono aperte non è che si non è che poi in talta parte consideri anche la quantità di iniezioni che c'era mentre la cassa soltanto per dare aria a qualsiasi persona che c'era che c'era che c'era di iniezioni si ecco quando è morta una riduzione ci sono felici di diritti ma saranno morte anche tante altre persone quindi si un mese dopo grazie a tutti noi però ci siamo occupati senza bilanciarci in ipotesi volevo l'avvocato Pepi se vuol venire a darci la sua testimonianza del processo avvenuto ai buonasera 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 a voi allora lei come ha conosciuto Mario Vanni Mario Vanni l'ho conosciuto occasionalmente in quanto in un primo momento fu indiziato dal dottor Vigna fu fatto un depreso penale di mondata in relazione al fatto che non si era più giuntato a rispondere a un interrogatorio e vede da me a questo punto per un consiglio io vi disse visto la situazione visto che si trattava di poche i migliaia di live che si pagano nel dottor Penale che non si deve stare a darci e il primo rapporto con Vanni è stato questo successivamente quando Vanni è stato poi arrestato e portato alla togaia a Braso mi nominò difensore e a quel momento io cominciai a occupare della sua vicenda che ho servito per tutte le indagini preliminari e per l'incidente provatorio che ho fatto a Lotti e una grande parte anche dell'istruttore dipartimentale dopodiché dovetti operare anche una scelta professionale perché nello stesso momento ero impegnato nel processo per le cosiddette stracce di mafia con quelle relative anche a via dentro profili per cui l'impegno di entrante le situazioni era difficilissimo per cui lui era già era stato mi aveva associato a Finasco per cui dovette il mio malgrado rinunciare all'ulteriore difesa però credo che io ho sempre avuto la mia convinzione che il Mario Vanni in questa vicenda ci sia stato accortato soltanto per due circostanze una perché era conoscente amico pacificamente del pacciato e successivamente per quelle dichiarazioni accusatorie fatte da Lotti su cui io ho sempre contestato anche perché io che mi sono formato non già su questo codice trama ma anzi sul precedente codice cosiddetto codice Rocco ho sempre contestato il processo iniziale che è secondo me padre e madre di tante condante innocenti perché basta che oggi una persona si vede e vari uffici accusi un'altra persona questo stasso prima si trova in carico questo mi va bene esce e poi non viene oppure viene mortannato ma purtroppo è stato prima quando poi il dottor Canese contestò al Vanni che nell'ambito dell'associazione sarebbe stato lui in Italia il primo momento mi venne veramente diforterizzata perché il Vanni io l'ho visto quando veniva a quando era sempre tremolante aveva sempre paura aveva continuamente da andare in bagno perché era una persona che sicuramente in quei anni non era assolutamente in grado di fare lei si ricorda il discorso relativo al giorno dell'omicidio dell'antimo si poi anche quello è una fece presente anche lei nel dipartimento si lo fece presente nel dipartimento poi come ripeto non l'ho potuto più affrontare in materia di a riga perché non l'ho fatto però era evidente da quelle che risultavano queste indagini medie fatte effettivamente l'uccisione di due francesi non era dell'8 settembre ma era sicuramente antecedente questo lo dicevano anche quelli di santo Federico per esempio esatto della Sama lo affermò quindi la firma che era secondo lui già in fase perché consideriamo anche anche il autorino che era quello della politica scientifica che era uno stato avanzato anche perché poi il stimo era certo per cui anche i discorsi di decomposizione aumentavano ma di fatti inizialmente anche le richieste che faceva il fece Riliene Canessa e Flegui indicavano la cosa e poi 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 il campo di protezione è diventato proprio diventato l'otto quando è diventato l'otto quindi si conferma anche lei se c'è qualche domanda per questi ospiti magari prego per il professor Marelli mi sento un po' dire se ha suo giudizio facciare c'è davvero molto dieci anni dopo farlo dopo l'ultimo del domanda se da quello che ha riscontrato lei non deve essere compatibile la struttura con un prodotto si presso che si presuna che ha fatto come gli studi qui quando ha dovuto diciamo così improvvisare il ragazzo non si come prodotto di diverse volte non si capisce se è impossibile quando dice no dal punto di vista fisico Pacciani era in grado di fare quei delitti era una persona robusta sanguigna irascibile sappiamo la sua storia non nasce soltanto con i delitti del mosto nasce ancora precedentemente con quello delitto che lui ha commesso il quale è stato contarnato e che ha fatto praticamente il carcere dovuto cioè mi riferisco al primo delitto in cui avrà trovato una persona in atteggiamento lasciato con una fidanzata uccise quest'uomo e poi non c'è solo la seconda a questo punto diciamo che lui aveva il fisico per fare il il problema del fisico però è stato in qualche modo messo in discussione e contraddetto dalla ricostruzione del serial killer che qualcuno ha fatto basandosi sull'altezza dell'aggressore durante l'omicidio di Jogorio cioè dei due tedeschi perché qualcuno scrisse che l'aggressore l'esecutore materiale del rischio dovrebbe essere alto almeno un metro un tanto punto semplicemente se non era un metro un tanto non avrebbe potuto fare questo determinante però insomma come si fa a determinare l'altezza di un soggetto soltanto da degli elementi che derivano dalla altezza teorica a cui mi è stato sparato questo corpo se io salvo su un gradino nella mia altezza è già ben modificato cioè non si può basarsi su questo per il nostro più d'altezza tant'è che esistono due tendenze una tendenza che dice che la Salfrino deve essere sul metro 65 e un'altra è che è che sono esattata con Pacciani a circa un metro 65 per cui diventava benissimo questa tipologia però Pacciani aveva comunque due infatti aveva avuto degli infatti e aveva 62 anni 60 anni ma se sì nell'85 per cui comunque era in grado di fare anche perché sparare e tagliare o fare più anche la persona che ha matica non ci sono delle controindicazioni dei diritti non era in grado prego una luce era una luce era una luce non lo so anche perché lei consideri questo io faccio il medico legal cioè il mio compito è quello di eseguire la dossier e dare delle ricostruzioni di modalità omicidiaria agli imprendi di quegli elementi che io prego c'è una domanda che è più trasparente all'epoca in cui tu i i i i che stavano a creare i erano pre-DNA che costitizzavano che tecnica biologica ha condizionata per dire quel tempo è sicuramente di quel compito cioè ora sono riguardo al DNA c'è ora le indagini sono state fatte lì per poco per cui probabilmente avranno utilizzato un metodo di DNA a quelle non c'avevano sicuramente la PCR ma avevano sicuramente qualche altra metodina per identificare non ho idea di cosa aveva fatto cioè il grosso problema della medicina legale è che rispetto alla medicina legale che lavora all'estero mi riferisco a un paese come l'Alanta noi siamo completamente scissi da quelle che sono le indagini e le forze di colizia negli altri paesi il medico legale lavora insieme alla polizia noi non lavoriamo insieme alla polizia noi forniamo soltanto degli elementi delle risposte a dei quesiti specifici che vengono fatti e poi non abbiamo più nient'altro cioè se io anche adesso volesse ricostruire certi casi del passato avrei difficoltato perché a parte quelli che sono i dati tecnici non ho il risultato delle indagini però questo è il fatto che chi non ha dato potesse dare le scienze in me nel senso all'eroma comunque è anche difficile oggi è facile però le posso dire per esempio che ci sono scordature dati per cui io non ho ancora oggi la notizia di che il farmaco è stato trovato all'interno dello stomaco dei pacciani perché mi è stata mai comunicata c'è proprio un compartimento stancho tra quelle che sono certe indagini per la creazione dei risultati gli inquirenti sanno che c'era un antiasmatico io ho saputo che era un antiasmatico ma nonostante questo non so che farlo a non provare ma pacciani si tratta l'armato pacciani non soffriva l'armato ma pacciani era una persona che non aveva nessun tipo di rapporto diciamo chiaro con la medicina cioè lui prendeva quello che prendeva non aveva nessuna non fai sicuramente qualcuno gli avrà più devono essere prestiti però la confezione dell'asmatico è stata trovata in camera certo io no perché che lo vorre per darla io cioè capisce il combattimento stato è totale io vado a fare un soprapporto mi occupo del canale della sua posizione faccio la dossier però che cosa trovano in casa che cosa ripeto se ci sono altre domande prima del approfessione del tuo domenicaio prego io ho avuto l'avventura di essere per la volta di assistire la mia produzione di provare ci siamo avanti ci siamo provati di che ho visto un film a di vero e sinceramente come io vedo il mondo producendo le industrie si nasce anche un'annuola il processo di 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 nel senso che davanti di che completamente rappresenta un altro mondo però si capisce anche si puoi trovare un'annuola di impressione di per l'inforzare di con quali è questa responsabilità di che è il che è il finale di questo è umano di il diritto il reato di una persona che è peggiore e al fondo si vede che anzi i reati prendono il suo rapporto a cui c'è l'interesse veramente, ma non c'è l'interesse di canti ciò che ci sta dietro, che è l'intima e ciò che ci sta a fare più lì davanti perché è il più dato, è una cosa dramma lì c'è tutta la serie dell'ordine scusi se è una teoria, ma sul processo facciani o il primo grado? ah ok, quello che è il primo processo mediato io dico tutti a leggersi gli altri del processo in generale perché se si legge dentro il processo degli altri ci sono molte risposte alle cose che a me stasera sento come ripresa di più, molte e il libro è infatti studiato quindi io dico, partecipato a un giro di lavoro in particolare con una distruzione di genere che è stata una teoria non sembra che sia necessaria il primo soltanto è quella in quel processo di durata ci sono molte risposte e quindi di tante persone non so, anche la famosa disurazione del risultato gioco no? se non è questa cosa che è un'immagine fuori per lui perché c'è un fatto molto importante che è avvenuto in un altro processo perché purtroppo il servizio non è tanto per il giudizio di un'immagine non è che il progetto non può salvarsi nessuno ma spesso è come vengono fatte le mani il problema vero è che questi negativi si sviluppano da molti anni cambiano le persone chi ha la propria, lo ha fatto lo fa quasi, è detto che il soggetto lo fa e quindi è un gioco che dopo avvicinano si riparte sempre dallo stesso punto perché i collegamenti avvengono molto tempo dopo e i collegamenti sono fatti perché c'è stata l'esperienza in bar perché se non c'erano fatti non si trova la verità ma è così quello è la meglio che fa il risultato rispetto al fatto che il tipo affina la tecnica che è anche il processo che è il suo modo di essere è un fatto che la capisci solo dopo che questi fatti sono anche avvenuti quindi chi indaga e chi ha fatto l'indagine di spesso credeva, ha avvenuto di essere risolto a un fatto che non fosse che qualsiasi stagio non fosse quella cosa che poi abbiamo capito in questo filo quanto ha rifiuto e quanto è giurisciato la nuova non è giurisciato la nascita del processo negativo con l'osso di silenzio è questa cosa qui questo fenomeno parte proprio dal processo che fu il primo processo che ti puoi dire prima e un altro vi voglio che le nostre forze delle menti che le menti che davvero sentono il processo spesso non venivano solamente alla mia città questo è quello che è la città quindi non ci si trova ancora con un'opinione fuori che è costruita su questo che ha visto e questo sono sicuramente che avrete insieme a me che se lo vedete una cosa ha visto la verità la tutela è tutela se la sentita perché c'è la ragione per la qual è più fatto e ha avvenuto che non dico tanto i presunti e per te il giudice lo dipende perché sicura eccezionale il presidente proprio da sì La prima cosa che ci diceva, cioè nel processo che è delitto, il morto, c'è sicuramente un assassino, ma la cosa in conto che abbiamo in effetti è il muovente e se ci si accorga molto, il momento è il momento, il momento è il momento, il momento è cambiato negli anni tante volte, si è partiti da un momento sessuale, nel processo facciano o anche prima, per passare poi al momento di gruppo, per arrivare a venire in gruppo con dei mandanti, quindi delle architetture molto diverse, o con gli stessi privilegi. O soltanto un po' che ho detto, poi mi chiede. Il raffirma, il raffirma, il raffirma, il raffirma, c'è molto anche di quello che avete detto, e c'è infatti soprattutto il corpo sessuale, ad esempio, più ci deve non ha mai un rapporto sessuale con il raffirma, c'è un'ossessione che è quella delle parti tipicamente femminili, il seno e il vetture, che sono, in realtà, il seno molto particolare per il numero dei libri Urbagiani, quando uscire, e con la sua violenza entra e mi dice, io ho avvisato il momento spettacolo di una ragazza, per far vedere il seno, che è il suo mio libro che si lavava, e naturalmente è una pastora, che è una norma semplice, alla quale mi dice via che lui non ha ossi e i tempi, e lui mi dice, mi voglio vedere il seno che è il seno, che è il seno, che è il seno sinistro, che sarà sempre lo stesso che il problema decisivo, ovviamente, l'elemento con il quale questa figura proprio riempira in modo continuo, che ci fa poi a voce decidere che era il facciano, non solo, perché non era solo, perché in quanto era un gruppo di uomini per i figli e il branco, anche il branco di campagna, perché non è solo il bronzo il branco, ma c'era purtroppo anche delle campagne forse pescane c'è stato, il branco andava fondamentalmente a guardare, fondamentalmente a guardare. Io mi scusi che devo interrompere perché sennò non riusciamo a vedere il documentario. La ringrazio intanto della sua testimonianza, non so se il tecnico, io non vedo da qui se è possibile abbassare la luce. Il documentario parla dell'ultimo, tratto dell'ultimo, quello di scoperti. È molto tecnico, spero che vi dia dei spunti di riflessione. Grazie. 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 Grazie.